Oggi è stata una tappa bellissima, nonostante sia stata tutta pianeggiante però ci siamo veramente divertiti, abbiamo fatto una bella media e poi ho visto un gruppo ben affiatato per poi un finale così emozionante con Astarloa che zitto zitto se ne è andato insieme a Ferregato e ha vinto questa tappa. Diciamo che la cornice di questo Giro d'Italia è una cornice veramente stupenda e ora ci accoglie le salite più importanti, quelle più belle di questo Giro d'Italia. Giro d'Italia. Giro d'Italia. Giro d'Italia. Grazie. 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 Grazie.